Grazie 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 Il Monte Velo non vediamo le cose è la prima quadra il corso non vedo lo stesso perché i primi nel tempo del Monte Velo Sì 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 Dai Vicky Dai bravo Dai bravo Dai bravi Dai bravi Bravo i muli Dai Molte Velo Sì 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 Bravo Sì 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 Bravo 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 No no ci sono ci sono Brava Grazie a tutti. 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 Bravissimo. Grazie a tutti. Buona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona. Grazie a tutti. Buona. Grazie a tutti. . , grazie a tutti. , bravo. , grazie a tutti. Forza. , grazie a tutti. 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 , grazie a tutti.